Per arianapoli.it abbiamo il piacere di ospitare la conduttrice Monica Pignataro. Monica, un pronostico per Napoli Sassuolo, come andrà a finire? Ma sicuramente Napoli sarà vittorioso, no? Ci auguriamo una bella vincita, un bel 3-0, magari con una tripletta di insegne, ma magari, dai! E speriamo che tu abbia ragione! E speriamolo!